si devi girare lì quindi sopra poi la discesa io vado dietro faccio un pezzo pieno qua andiamo vai giù qua eh sì e no così sali adesso lì sali vai gira dietro bravo tutto controllo bravissimo vai fino in fondo bravo e non ha picchiato stavolta adesso è cominciato ad essere anche stracchi devo andare a filmare loro però io che stanno facendo una marea di boiate adesso sono stanchi sempre a piedi prima volta giù dritto 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 guarda che scotta Michi guarda che scotta il coso se no si brucia perché di là la marmitta no è dall'altra parte Michi è di là la marmitta no perché se no si brucia è di là la marmitta Non vale, non ha fatto il sasso, non ha fatto il sasso. Di là, di là, di là, di là, vai giù dal sasso, vai giù, dritto, dritto, di là, di là. Oh, non la fanno a piedi neanche a morire. Vai là, dritto, fino in fondo. Basta, finita, out. Azzo! Adesso vado a filmare loro che sono stanchi, fanno qualche cagato. Ciao.